Finalmente Alleluia Ma non la vediamo più da tanto tempo Perché c'è una scala lì? Non ho fatto le modifiche Cosa è vero? Cosa è questa roba? Cosa è una cantina Sì è una cantina Sì è una cantina Ma come i soldi? Come fanno a sapere due o due mesi soldi? Va bene Che figo lampioni C'è un bel di luce Forse è del Quello là che la vuoi raggiungere nel negozio Mi sono chiuso dentro Veramente Sì non ci sono niente Aiuto Madonna mia che fail Ok Ah beh credo ancora in costruzione È vero? Mi sa proprio Dentro i sui mobili No I bagni finalmente su un bagno Che vincolo Togli tutto c'è Solo due letti Ancora tutto Solo due letti ci sono in questa casa Ok Mi porto i ferro Poi su qua C'è Migni ci sai Che bella Scusa Io ancora la ragazza Non l'ho vista Cosa ci fanno? Le mail Questo 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 Che bella il bagno Posso fare una doccia Ok Non ho portato il cambio Quando c'è il bagnato No Vabbè E ci sta Dentro casa Farebbe se Sì guarda Antina Ancora casa Ma c'è scritto Io so che C'è una cesta Con una Manca la decola cesta Vero? Eh? C'è un manca la decola cesta Sì E cosa c'è dentro? Boh Prova a mandare qualcosa 63 fogli 64 Scuglie Mi mandi 30 fogli Che mi servono 30 fogli? Ho 10 Boh Mi rischi di te Mi servono 10 meno quale di carta Che è in 48 Spero che arriva Un attimo Non Non so perché sono Ok Non c'è nulla Ok Grazie Prego Ti cambio Io ti do delle cose Te le mando Ok Metto questo Ti uqui Io ti rimando un'altra cosa Ok Tu mi hai mandato una cosa Settevolo Grazie Io ti rimando questo Guarda Adesso arrivo Guarda Un attimo Ecco L'ho trovato dentro Dopo basta L'ho trovato qui dentro Lo scelteretto O a te Ok È arrivato Bello Ah Ok 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 Cosa ho scoperto C'è un pezzo rotto Guarda Sono scelto da qui Ok Quindi te l'ho mandato indietro No No Sei tranquillo Io mi metterò in casa Guarda Che bello rumore Ciao cucciola Ma come mai Sei ritornato Ciao Ma dove eri sul tetto Guarda Ehi Dai Ci sono Dai Carino Ma cosa è il suo buco Lì c'e' un violetto come hai una porta così tra le cose non hanno fatto male qui, guarda mmm, puoi lasciare un po' brutta guarda qui no, no, la mia ti romino la testa oh, chi mi ha attaccato? abbo vabbè la casa del nebo mi ha cambiato eh già la sua la ghiaia non vuoi entrare la chiesa dopo il momento l'altro ci becca e ci rovina vabbè, come ho detto io io ho dimenticato una cosa da una cazzina sai cosa? eh tu te lo sei già dimenticato non mi hai saltato la coia più lunga non lo so da me è che è bello uccidere il nebo è già in carcere no, non lo so sinceramente sai perché? mi prendo un po' di soldi no, mi basta anche uno ok dai ci sta, vero? questi valgono 100 vabbè, dietro ne ho 700 andiamo andiamo conci insieme io vado a comprarmi le TNT ok ma quanto costeranno? wow brutto se non ho scritto il prezzo è che brutto se non ho scritto ci penso io ok le do un giusto cosa c'è con la testa? ok il nube il nube ci pensa da squintare con la testa nube stupido vero ma è invece intelligente io la prendo metterla in testa no è quanto il nube che una volta entra qua esco di sera se lo faccio esco di casa e lo urlo che cosa è sto bucone? no, lo dovrei credo toccare ripara bravo andiamo su no, è da qua guarda, teniti bu io la cerco qui tu l'hai trovata no, non ho messo il pezzo è qua boh potrei chiamare il pubblicetto e chiedere? eh prendete la finita in tasca ok trrr trrr pronto ma quanto costerebbe a teniti? 100 ok ciao ciao 100 ok la metto su 100 craft oh, madonna, quanta roba c'è? una tinta e un 100 craft madonna mia ma cosa hai se tanto la tinta? wow la cindino? credo chiacchiamo l'ho comprata, boh una, poi credo prende una ok che noia ma c'è il tipo boh forse dopo va se l'ho comprata ma forse è come si io non ho comprato nulla mi interessa niente io ho corpato non hai cosa fa una passeggerata sotto la piazza dai mi metto il cappuccio tutto messo sotto la piazza mi metto i scaldamenti dopo di venire l'inverno nevica fa freddo, fa freddo, fa freddo mi ha dormito, mi ha chiamato buonanotte bene guarda 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 ma mai andiamo a fungiro te lo prometto io dormo Enzo mi sto dormendo Enzo mi sto dormendo mi sono dormito un minuto dietro a casa mia c'è scritto morirete dove? qui sei paura vieni da me che paura ma per paura succedo qualcosa ti sono aperte le porte notte dentro la casa non ho niente Wolfi sei da guarda sei bravo aiuto aiuto ho sbittuto la testa che male Wolfi oh ti sei trovato una tona perfetta sai dai vieni mi fa un giro dai vieni vuoi venire a farti un giro? dai vuoi salire? no buongiorno vuoi pure fare la cacca poi la cacca vieni a fare un giretto dai lascia la porta aperta chi è questo? Wolfi anche Wolfi vieni 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 dai mi fa un bel giro dai corriamo dai dai che c'è? vieni qua che bello bufoletto dai guarda che bello oh dove scafi? ti prendo? vieni qua vieni qua questo finalmente rimani qui e fai la guardia ciao ciao ti porti cibo aspetta mmm tanto eccolo là ciao 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 bene bene ti faccio fuori sono venuto proprio piccaporte se mi attacca mi muovi dai ti prendo fuori vieni 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 scappa 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 vuoi vedere vuoi vedere vuoi vedere ok vuoi vedere attaccami muori brutto se c'è coraggio tutti questi brutti persone ah yeah vieni faccio un po' un po' rotto dai brucia no dai aia muore aia 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 tu ancora qui sei? scappa non potrei mai farmi fuori c'ho l'armatura e la fine cosa stai rubando ogni volta da casa del mio amico? sei gito e vai via ah stai mettendo via oh che male il cane chi è? pulizio tu stai bene? no mi ha morto il cane di questo stupido della spalla ti è fatto male qualcosa? mi ha morto la gamba mi fa malissimo non so saliti vieni in casa saliti su saliti su saliti su mettiti a dormire oh fa male cosa stai da te stasera? sì grazie buonanotte 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 vieni casa mia o la casa della ragazza o abiti in quella casa se non adesso mi preferisco stare qui un po' ciao aspetta aspetta vuoi chiediti una cosa? cosa c'è? ma all'interno ci sono i pulsanti no perché ancora in farsi ah ok mi apri in betta secondo se ti chiamo sì va bene dai ti apro va bene io vado dentro ok ciao ciao tu ah madonna mia come ho pulito il tuo morsicano vabbè ok ciao 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 ciao